Un vero e proprio regalo di Natale all'insegna della solidarietà fra studenti. E la storia che arriva dall'Istituto Marconi, quei alunni che fanno parte del laboratorio di officina meccanica hanno deciso di regalare a quattro studenti del Dagomari altrettante biciclette. Un gesto d'attenzione verso quattro ragazzi che a fine novembre hanno dovuto fare i conti col furto delle proprie bici parcheggiate all'interno della scuola di via di Reggiana. Si tratta di studenti che usano le due ruote per spostarsi da casa verso scuola come mobilità sostenibile e che adesso erano costretti a farsi portare in aula, in macchina o a muoversi col trasporto pubblico. Appena venuta a conoscenza del furto, la preside del Dagomari ha pensato di chiamare il collega del Marconi per chiedere se fosse stato possibile, attraverso il laboratorio di officina meccanica, regalare quattro bici ai propri studenti derubati. La risposta da via Galcianese è stata positiva e così i ragazzi che fanno parte del laboratorio si sono subito messi all'opera per assemblare le bici. Nel laboratorio prendiamo le biciclette e cerchiamo di risolvere il problema in gruppo. È molto bello questo progetto perché queste biciclette vengono accolte per strada o sono biciclette rubate e noi le sistemiamo per darle alle persone che hanno bisogno. È stato interessante vedere la solidarietà scattata dagli studenti del Marconi e verso gli studenti del Dagomari che appunto usano le biciclette per venire a scuola e quindi è un mezzo per loro abbastanza importante. Il progetto di officina meccanica al Marconi prevede il recupero di bici rubate, danneggiate o ridotte a carcassa per trasformarle in mezzi nuovi e pienamente funzionanti. Di solito a fine anno queste bici vengono poi rivendute, mentre stavolta sono servite per un gesto di solidarietà. In genere da tre biciclette riusciamo a farne una e la cosa interessante è che tutti i materiali vengono poi smistati dal punto di vista della qualità e della tipologia. Quindi c'è un discorso anche importante di sostenibilità perché in caso contrario queste biciclette andrebbero in discarica.